Ciao a tutti, come ha detto Nicole, questa sera parleremo di smart working, come l'ho descritto io, smart working a true story, perché è una condivisione di esperienza che mi sono fatto in questo anno e mezzo su questa metodologia di lavoro. Allora, innanzitutto mi presento, come ha detto Nicole, sono Alessandro Minocchi, lavoro in flowing ormai da un anno e mezzo e mi occupo principalmente di back-end, però riesco anche a mettere mani sul front-end, quindi diciamo un po' full stack, anche se prevalentemente back-end. Mi potrete trovare su Twitter, con questo nick Minompi, o su GitHub. Sono un assiduo frequentatore degli ambienti open source, quindi li trovate anche su GitHub o Stack Overflow. Come vi dicevo, questa sera parleremo di smart working per tanti motivi, perché tra il Covid che ha accelerato questa metodologia, diciamo che si sono sentite molte persone che hanno detto di lavoro in smart working e come. E spesso mi capita di sentire frasi, diciamo, dei miti che vorrei un po' sfatare, tipo... Ah, quindi lavoro in smart working e quindi uno pensa che lavoriamo da casa e non facciamo nulla e principalmente stiamo sul divano o giochiamo, guardiamo televisione. Non è vero, questo ve lo vorrei proprio sfatare e stasera vediamo anche perché. Questo è un falso mito che ci tengo molto perché è una frase comune che sento veramente tante volte dire. Un'altra è anche lavoro in smart working dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 sempre. Questo secondo me non è smart working. O un'altra, tipo metà settimana lavoro in smart working e l'altra metà sono in ufficio. Anche questo non è smart working, secondo me. Quindi, prima di iniziare mi piacerebbe partire dalla definizione che viene proprio data dalla legge che è il lavoro agile o smart working. È una modalità di esecuzione dei rapporti di lavoro subordinata e caratterizzata dall'assenza di vincoli, orario spaziale e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. Questa è la definizione formale. procediamo con una definizione un po' più semplice che ci possa aiutare a capire cosa significa nel dettaglio. Io l'ho definita come una modalità di lavoro che ha l'affinità di concedere ai lavoratori flessibilità e autonomia negli spazi, negli orari, negli strumenti per svolgere attività. Soprattutto, secondo me, incentiva molto la responsabilità e la collaborazione. Quindi, lo smart working significa in sostanza che possiamo lavorare dove vogliamo, poi dopo vediamo anche come, negli orari che vogliamo, anche qui bisogna un po' capire cosa vuol dire orari che vogliamo, non è che possiamo lavorare tutti i giorni e di notte e poi scopriremo perché, e gli strumenti, cioè ognuno deve essere responsabile e autonomo a decidere quali strumenti usare per lavorare al meglio, senza che nessuno gli dica cosa sì e cosa no. Perché incentiva molta responsabilità? Perché è un lavoro per obiettivi. Questo è proprio il focus che va a spostare lo smart working. Non si lavora più per ore, ma per obiettivi. Quindi la responsabilità aumenta e il livello di collaborazione pure, perché bisogna coordinarsi tra di noi proprio per riuscire a raggiungere questi obiettivi. Se analizziamo un po' di dati, mi piacerebbe un pochino farvi vedere quali sono quelli che ho riscontrato di più o comunque che sono venuti fuori nel 2018 su osservatori.net, cioè che il numero di lavoratori smart working è in crescita. Parliamo sempre del 2018 perché i dati del 2019 non ci sono ancora al momento. i dati sono in crescita perché c'è una maggiore soddisfazione del proprio lavoro, proprio perché è un tipo di metodologia che va incontro a tutte le esigenze sia dell'azienda che del lavoratore. E ci sono dei principali dati osservati che mi piacerebbe elenchiarvi, che sono l'aumento della sostenibilità, cioè le aziende con i lavoratori in smart working sono più attrattive e hanno un costo aziendale minore. Considerato il fatto che se vengono tolti gli uffici o comunque vengono tolte queste strutture, abbattiamo dei costi, che non vuol dire che abbiamo zero costi perché poi dopo le persone devono avere un budget magari per il co-working, un budget per l'hardware o il software che usano da casa o dove vogliono lavorare. Quindi non vuol dire costo zero, ma sicuramente abbattiamo dei costi. Una necessità di cambiamento perché l'aumento dei smart working risponde ad un reale necessità, proprio perché il mondo del lavoro cambia, la frenesia, la concorrenza e quindi c'è bisogno di cambiare il modo in cui lavoriamo. Un altro dato importante è l'aumento della produttività, perché i dati proprio dimostrano questo aumento e poi capiamo anche il motivo, proprio perché avendo un lavoratore felice o che ragiona per obiettivi si riesce ad aumentare questa produttività. Un altro fattore secondo me importante è l'aumento della costanza nel tempo, cioè le persone che lavorano in smart working tendono a restare di più dentro la società, proprio perché hanno un tipo di vita in cui si trovano bene se svolte in maniera corretta. Quindi ecco i dati da Aerostat 2018 che dicono che l'Italia ha il 3,6% dei lavoratori in smart working, dato che non è che ne siamo felicissimi, è da aumentare, da migliorare rispetto magari all'Olanda, Finlandia che sono sicuramente all'avanguardia, poi appena escono i dati del 2019 sono molto curioso di vedere come sono cambiate queste percentuali. Una cosa molto importante che tanti sottovalutano sono le normative e le sicurezze proprio, perché c'è molto detto o non detto e fino al pre-covid le leggi non erano così chiare e avere un contratto da smart working non era così ben delineato, c'aveva un po' di lacune o cose da chiarire che lasciavano un po' quel detto non detto. Ma è importante sapere che comunque le norme di sicurezza sono uguali sia per un lavoratore di smart working che per un lavoratore tradizionale, perché comunque ha gli stessi diritti e doveri, non cambia. È importante che il lavoratore sappia che la propria salute è la sua responsabilità, sostanza. Perché dico questo? Perché comunque ci sono dei rischi a lavorare in smart working che tante volte si sottovalutano. E questi rischi li ho elencati un pochino riassumendoli con anche delle contromisure che secondo me possono essere, possono aiutare a farvi capire meglio alcune problematiche che si possono incorrere, che personalmente li ho visti da vicino o comunque ne ho parlato e sentito dire. Tipo, una caratteristica del smart working è, come abbiamo detto, lavorare in qualsiasi momento. Il rischio è lavorare troppo a lungo o troppo poco. Bene, qui quindi vorrei sfatare il mito di lavoriamo da casa o dove vogliamo e ci mettiamo a giocare magari a playstation o a televisione. Vi dico già che in mia esperienza non è così. Le prime settimane, i primi mesi io mi sono accorto che ho lavorato più del dovuto. Proprio perché in quel momento stai ragionando per obiettivi e vuoi terminare qualcosa. Quindi magari non ti accorgi che stai facendo più del dovuto e devi fermarti prima. Devi riuscire a capire un pochino quali sono i limiti e come riuscire a rispettarli perché poi ne vale della salute. Passare troppe ore davanti a quel monitor non fa bene a lungo andare. Ecco perché una contromisura che mi sento di consigliare è proprio definire una routine dei propri orari di lavoro con quelli privati. Che non vuol dire che noi facciamo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 sempre. Vuol dire che adeguiamo la nostra vita privata e la nostra vita lavorativa. che è un cambiamento di ottica molto importante. E qui salta fuori il discorso di quando lavoriamo. Bene o male in Flowing siamo organizzati in maniera che possiamo lavorare quando ci pare. Logicamente tenendo conto degli orari dei clienti e del proprio team. Quindi se c'è una riunione alle 10 con un cliente si cerca di essere lì. Poi ci sono persone che iniziano alle 7, persone che iniziano alle 10, persone che staccano 2-3 ore, persone che finiscono più tardi a seconda delle esigenze. Vogliono andare in palestra, che non so hanno un corso d'inglese. Vogliono magari iniziare più tardi o prima. Io ad esempio adeguo il mio orario di lavoro anche al mio metabolismo. Perché so che ad esempio in estate io dalle 14 alle 15 sono magari meno performante perché sia il caldo, non lo so, però cosa faccio? Inizio prima, faccio una pausa più lunga e poi ricomincio quando so che posso essere più performante. Questo l'azienda ne trae beneficio e anche noi perché comunque ci sentiamo più produttivi. In questa maniera rispetto al mio orario di lavoro con la vita privata io ho il tempo per me. questo è una cosa molto importante perché ho riscoperto tempo libero adeguando proprio il lavoro alla mia vita privata. E secondo me è molto importante, ma il fatto di lavorare troppo a lungo io l'ho sentito e me ne sono accorto in prima persona. Ho lavorato più del dovuto e ho dovuto proprio stabilire una routine che poi vi farò vedere. Un'altra importante pilastra è lavorare da qualsiasi luogo con il rischio ergonomico nella vista della postura. Questa è una cosa che tante volte quando facciamo i corsi di sicurezza sottovalutiamo perché lo vediamo sempre, la postura corretta, la sedia, il monitor, la luce, le diamo sempre per scontate. Ma poi cosa succede? Quando trasliamo a casa che dobbiamo definire la nostra postazione ad esempio o in un co-working o dove vogliamo ecco lì iniziano a venirci, non dico i dubbi però, lavorate per otto ore di fila su una sedia di legno dura e vedete a lungo andare la vostra schiena come starà. Oppure lavorare perennemente al buio o con una luce sbagliata. A lungo andare gli occhi ne risentono e poi dopo non si può tornare indietro, dopo ci sono problemi grossi. Quindi quando lavoriamo in smart working è importante anche definire un luogo consono. A me è capitato di lavorare in posti non consoni perché magari in quel momento mi trovo in giro e magari avevo voglia di lavorare in quel momento tipo al mare, perché no? Una volta che puoi fare logicamente se ho delle riunioni non vado al mare o in un bar perché c'è confusione, però in quel momento potevo farlo e l'ho fatta. C'è gente che lavora anche in un bar, passa lì e scrive due righe di codice al bar, va bene, però non puoi fare otto ore in un bar soprattutto se fai delle riunioni, ripeto, anche perché ci sono persone attorno a te. Oppure lavorare dal letto o dal divano, questo io ve lo sconsiglio perché ne va dalla vostra schiena e personalmente a me prenderebbe veramente un sonno micidiale, quindi no, non va bene. Quindi è importante definire una postazione con la giusta ergonomia perché è proprio quello che ci fa star bene, soprattutto noi che stiamo spesso a sedere. Non sottovalutate questa parte perché è veramente importante per la vostra salute. Un altro pilastro è lavoro per obiettivi. Cosa vuol dire lavoro per obiettivi? Che non si delineano sempre otto ore, ma ci sono degli obiettivi prefissati col team, col cliente, che praticamente devono essere rispettati. Questo cosa porta? Stress e ansia. Ansia ne abbiamo parlato nell'ultimo Pug, quindi se volete chiedere a Nicole o a Manuel potete vedere il loro video anche. Porta lo stress e ansia perché dobbiamo dire, oddio, ho un obiettivo da prendere, da fare, ce la devo fare, non ce la faccio, oddio, oddio, ci facciamo prendere lo stress dall'ansia e quindi dopo è un loop. Quando si inizia a innescare questo problema inizia a diventare pesante lavorare. Ecco perché è necessario quantificare i tempi per certi obiettivi, non devono essere cose impossibili, non devono essere cose troppo semplici ad esempio, deve essere il giusto concordato col team e col cliente. Questo fa sì che delineando bene i tempi cerchiamo di ridurre lo stress e l'ansia, che comunque lo stress, ve lo dico, ce l'avremo sempre perché comunque stiamo lavorando di solito, difficilmente siamo senza stress, però può capitare, però vi dico già che è una cosa da convivere. Lavorando per obiettivi ma anche a tempo succede. Lo stress col lavoro ce l'abbiamo, cerchiamo di quantificare bene i tempi per le cose e rendiamoli pubblici, condividiamoli con tutti, col team e col cliente. La trasparenza sicuramente aiuta in tutto. Un processo autogestito, cioè questo è un altro pilastro dello smart working perché ognuno è libero di autogestirsi, di lavorare come più lo aggrada, però cosa porta? Potrebbe portare a un isolamento. Quindi uno dice, beh, mi organizza, faccio le mie cose, faccio questo, questo e quest'altro, però dopo un po' non sente nessuno, non lavora con nessuno e pian piano si inizia a diventare molto molto isolati. Questo è un problema grosso che personalmente avevo paura quando ho iniziato a lavorare di smart working. Io non volevo lavorare da solo, ma non perché avessi paura dell'isolamento, più che altro per imparare, perché mi piace lavorare con le persone. Ecco, quindi una contromisura valida è definire opportune riunioni e momenti di condivisione con i colleghi, quindi call, riunioni. Io in questo momento a volte spero di non avere delle call perché sono perenemente con qualcuno in pair o qualcosa e ogni tanto anche un momento solamente per pensare a quel pezzo di codice mi serve. È importante condividere dei momenti perché spesso quando lavoriamo in smart working ci dimentichiamo di queste cose e non ci fa proprio bene. Tipo in flowing abbiamo messo a calendario tutti i giorni alle 11 alle 4 un bot che è su Slack, ci apre un link a Zoom dove tutti ci possiamo collegare e dire due o tre cose, quelle di lavoro, extra lavoro, giusto per sentirci tutti insieme, visto che siamo sparsi in tutta Italia, ci vediamo, apriamo la cam, ci raccontiamo un po' la giornata, quello che ci succede, quei dieci minuti di condivisione tutti insieme, giusto per vedersi anche solamente in webcam. Alla fine è una cosa che abbiamo trovato utile, carina, simpatica e alla fine funziona secondo noi. Un altro pilastro molto importante da capire è la parte che non abbiamo un controllo di quello che facciamo, quello che abbiamo un responsabile che ci guarda magari, che ci controlla questa sensazione, oddio ci controlla, ecco non c'è nessuno che vi controlla a casa o da dove lavorate. Questo cosa può portare? Distrazioni. Questo è uno di quei temi che spesso vengono fuori, ma chissà dove è andato, non ci risponde, di qua e di là. Anche qui vorrei sfatare qualche mito perché se uno non vi risponde, ad esempio non ha detto che sia distratto o sta facendo altro, magari sta lavorando e non riesce a rispondervi su Slack o in qualsiasi chat. Ecco perché è importante capire che lavoriamo in assincrono. Dall'altra parte è importante anche evitare certe pratiche come i social sul PC oppure avere il telefono che squilla ogni 3x2 con WhatsApp o quello che è, allontanarlo e quando abbiamo veramente un problema da risolvere impegnativo o comunque che abbiamo bisogno del nostro focus, disattivo addirittura anche le notifiche di Slack perché io bisogna essere concentrato lì. E qui salta fuori il discorso, ma se non mi rispondi vuol dire che stai facendo altro. No, non è che non sto facendo altro. In quel momento non riesco a risponderti, magari sto veramente su un problema che devo metterci la testa. Devo metterci la testa e non riesco a risponderti. Questo è un altro punto importante da Smart Working perché lavoriamo in assincrono. Non sempre abbiamo le persone a disposizione come in ufficio dove possiamo battere sulle spalle e dire, ma mi dai una mano? Una volta, due volte le versioni sbuffano, però alla fine sono lì, quindi le potete chiedere. Però non è che faccia bene neanche quello, interrompere le persone magari mentre sono nel loro flow, nel loro momento migliore per poter svolgere quel determinato task, non fa bene. Smart Working vi aiuta a essere più concentrati perché potete disattivare le notifiche. Potete isolarvi in quel momento, in quel preciso momento di pochi minuti, perché basta veramente poca volta per avere quell'idea che vi aiuta a risolvere tutta la giornata. Ecco, questi erano i vari pilastri. e torno al problema iniziale che avevamo visto, cioè che si lavora dalle 9.13 e 14.18 perché secondo me quello non è Smart Working ma è del lavoro. E qui vorrei un po' farvi vedere uno schema molto semplice di differenze tra telelavoro e Smart Working, dove il luogo di lavoro nel telelavoro è prestabilito. Cosa vuol dire? Che voi se lavorate in telelavoro dovete dire esattamente da dove lavorate tutti i giorni. Il lavoro in via tal dei tali. Smart Working potete lavorare dove vi pare. Oggi potete lavorare da casa, domani non co-working, un altro giorno da un'altra parte, senza problemi. L'orario di lavoro nel telelavoro è fisso e determinato, come vi ho detto prima, dai 9.13 e 14.18. Quello lavoro è telelavoro, non è Smart Working che potete definire quando lavorare a seconda delle vostre esigenze. Che poi dopo vediamo anche un po' di tips and tricks in merito. Il contratto è uguale, scritto e definito, non è che cambia. Logicamente per lavorare in Smart Working c'è un tipo di contratto diverso come per il telelavoro alla fine, la retribuzione è la stessa e l'organizzazione del lavoro nel telelavoro è uguale come se sei in ufficio. Invece lo Smart Working si ragiona per obiettivi e risultati, come vi ho detto prima. Ok, ora che abbiamo capito un po' queste differenze, vorrei entrare un po' nel dettaglio su una parte importante che è il Remote Working. Perché? Perché comunque lavorare in Smart Working, come abbiamo detto, non vuol dire lavorare da casa. È importante questo. Ma lavorare dove siamo più consoni e spesso praticamente siamo in remoto. Quindi passare dall'ufficio al Remote Working è un passaggio che molti hanno fatto, stanno facendo, ma che non è così banale perché ti cambia molto certe prospettive, ti cambia molto la vita, ti cambia quello che tu fai di solito nel tuo quotidiano. A me personalmente è cambiato molto perché io sono un estimatore degli uffici, adoravo andare in ufficio perché stavo con i miei colleghi, ci dicevano due o tre battute, si scherzava, si lavorava insieme, potevi confrontarti direttamente, è vero, cosa che riesco anche a fare adesso. Passare in Smart Working in remoto è stato un po' un passaggio che ci ho dovuto pensare un pochino. Proprio perché non volevo lavorare da solo, non volevo lavorare isolato, volevo lavorare con le persone. Direi che in questo momento sta funzionando molto bene perché alla fine riesco a lavorare col team, riesco a lavorare col cliente senza problematiche, senza sentire quella necessità del contatto fisico che prima c'era. Il solito discorso che la macchinetta del caffè fa molto team building, vero, ci sono altri modi per farlo, come vi ho detto prima, la pausa caffè virtuale in flowing funziona, oppure anche solamente vedersi ogni tanto da qualche parte, in qualche co-working, qualche team succede. Quindi direi che il passare dall'ufficio al remote working è fattibile, ma non è subito e immediato. Ci sono diverse problematiche che pian piano devono essere sistemate, come adeguarsi proprio al fatto di poter lavorare dove vogliamo, o gli orari che vogliamo. All'inizio ero molto standard, facevo gli orari classici, poi pian piano mi sono sciolto, ci ho messo un po' quel tempo giusto per capire quali erano i limiti miei e qual era il modo migliore per me per essere performante. Vi avverto che cambia anche la mentalità e l'approccio dell'azienda. A mio avviso non funziona molto bene quando un'azienda è un po' in smart working e un po' in ufficio, un po' in remoto, un po' in ufficio, perché diciamo che sono proprio approcci diversi. Lavorare in smart working si lavora per obiettivi, lavorare in modo tradizionale di solito no. Questo porta a avere anche dei squilibri, spesso si trovano gruppetti, spesso si dice ah ma loro lavorano in smart working, ah ma loro lavorano in ufficio, quindi è proprio perché è proprio un approccio diverso che fa sì che non è fattibile a volte riuscire avere tutte e due gli approcci nell'azienda. Quindi anche qui è sempre, dipende, ma è importante capire che è proprio un approccio, una mentalità che anche l'azienda deve cambiare, perché deve capire che in quel momento magari il dipendente non sta lavorando perché magari ha un impegno, magari ha iniziato prima, magari finisce dopo, magari ha fatto il suo obiettivo e quindi in quel momento si è preso un attimo alla pausa perché piuttosto che fare 8 ore ha fatto 6 ore veramente come un drago e quindi ha raggiunto l'obiettivo e tutti siamo contenti. L'importante è l'obiettivo alla fine. Altre problematiche che ci vedo quando si passa da ufficio a remote working, a smart working, è la comunicazione. Noi dev siamo un pochino carenti spesso in comunicazione, lavorare in remoto accento a queste, diciamo, problematiche. Perché non siamo spesso molto bravi a comunicare con gli altri? Quindi ci sono diversi consigli che mi piacerebbe condividere con voi anche per errori che ho fatto io. Spesso quando scriviamo in chat a qualcuno, siamo molto di fretta e scriviamo tre parole. L'altra persona capisce una cosa quando in verità ne volevano dire un'altra. Questo è il classico esempio. Oppure se siete arrabbiati, cioè è inutile che scrivete a ok punto. No, siete un po' più esplicativi. Guarda, questa cosa non è che mi stia tornando molto, ne parliamo? Guarda, mi ha fatto un po' arrabbiare questo atteggiamento. Come mai è su questo? Cercate sempre di essere, di condividere le vostre emozioni anche se siete felici, cioè ragazzi sono contento questa cosa, veramente ottimo, perfetto. Perché? Perché comunque siete anche dall'altra parte e spesso non capite l'altra persona come ha interpretato quello che avete fatto o detto. O comunque una situazione spesso difficile, perché sono fine delle situazioni difficili che ci fanno avere quei misunderstanding che poi ci danno fastidio. Quelle cose, quei sassolini che non togliamo mai. Quindi piuttosto che scrivere tre parole, scrivetene a meno 12 per essere un po' più parlanti, per far capire agli altri magari il vostro stato d'animo. Utilizzare strumenti consoli a tutti. Cioè, se qualcuno non ha un certo tipo di strumento, è inutile che continuiamo a invitarlo su quello. Usiamo strumenti che siano condivisi anche a tutti, che tutti hanno l'accesso. Perché dobbiamo essere inclusivi. E l'inclusività mi porta anche a dire di coinvolgere le persone. Se state facendo una riunione di team, coinvolgete tutti. Ma, dall'altra parte, sappiate anche dire di no. Quando sapete che non portate valore a una discussione, lo dite. Cioè, ragazzi, secondo me in questa discussione non è che servo molto. Magari c'è qualcuno che la vede in maniera diversa e vi dice, no, guarda, in realtà è perché tu sai questo, questo, quest'altro. Oppure, va bene, poi ti facciamo un recap giusto per tenerti allineato. Nel frattempo, se siete in una riunione e capite che non date valore, alzate la mano, dite ragazzi, mi stacco, tanto in questo momento è meglio che faccio altro. Che non vuol dire che non me ne frega. Ma magari c'è una discussione che voi proprio non c'entrate nulla, è onesto secondo me. Dire, mi stacco, poi magari mi fate un riassunto senza problemi. Altro problema di inclusività è quando ci sono persone introverse, quindi vedete che vogliono dire qualcosa o non dicono mai nulla, provate a aiutarli a esternare queste cose. Provate a dire, ma tu in verità come la pensi? Come vedi questa cosa? Provate, non dico a estorcere quell'informazione, però a invogliare poi a entrare nel discorso, perché spesso le persone introverse sono quelle che hanno veramente qualcosa da dire, importante, ma che fanno fatica a esprimere. Soprattutto il problema che ci vedo è, come dicevo prima, non sempre avete bisogno di una risposta immediata. Spesso scriviamo, ma quella parte di codice come è stata fatta? Passano 5-10 minuti senza risposta e diciamo, ma questo, come ho detto prima, magari uno ha una cosa importante da fare e la stava facendo, oppure in quel momento non è lì fisicamente. Lavorare in maniera asincrona significa anche questo, non abbiamo risposte immediate. E il concetto di urgenza è una cosa che vorrei anche capire meglio. L'urgenza per me è quando un server non funziona, quando il sistema di pagamento non va e non so quali altri ce ne possono essere. Quindi anche qui le comunicazioni possono essere diverse. Le mail, quando dobbiamo comunicare qualcosa magari di ufficiale e non abbiamo magari bisogno di una risposta immediata. Slack, chat, questo può essere un sistema abbastanza veloce. Il sistema ancora più rapido è magari Whatsapp o comunque mandare un messaggio direttamente. Soluzione ancora più che si dice io ho un'urgenza, ti chiamo al telefono. In questi due anni quasi di smart working io ho chiamato penso una volta una persona, ma perché non era raggiungibile tramite internet. Quindi alla fine non ho mai avuto questa necessità di urgenza, di una risposta. Se ho bisogno di qualcosa posso anche aspettare un'ora, è normale. Come tante volte altri aspettano la mia risposta perché sto facendo altro. Anche qui lo switch context, cioè cambiare spesso proprio il contesto non vi fa avere delle buone performance perché state facendo una cosa, ah non la finisco, faccio un'altra, poi non la finisco, ne faccio un'altra. Non finite nulla e non fate bene nulla. Anche questa è una cosa importante da capire. Cioè fate una cosa per volta, finitela e poi passate quella dopo. Se qualcuno vi scrive, continua a scrivervi, basta che gli scrivete. Guarda, dammi un'ora e ci sono. Almeno l'avete tranquillizzato che tra un'ora siete lì. Poi dopo dovete cercare anche di rispettare quell'impegno. Se vedete che arrivate lunghi e quindi non riuscite a rispettare quell'impegno, comunicategli di nuovo, guarda sono in ritardo. Quindi più comunicazione per dare un feedback agli altri anche. L'ultimo punto sulla comunicazione è il feedback. Perché? Perché secondo me quando stiamo facendo qualcosa, quando facciamo una riunione, quando parliamo con altri, alla fine se siamo accorti che qualcuno magari poteva migliorare o ha fatto bene qualcosa, diciamoglielo. Perché ce lo teniamo per noi? Guarda, secondo me potevamo migliorare questo spunto qui. Anche qui i feedback devono essere oggettivi, perché magari è inutile dire ma secondo me potevamo far meglio. Quel feedback non funziona. Il feedback funziona quando abbiamo qualcosa di oggettivo. Guarda, in quel punto lì potevamo far meglio, potevamo fare questo e questa. Che ne pensi? Oppure guarda, in quel frangente, in quel pezzo di codice hai fatto veramente una cosa bellissima, cioè da condividere a tutti perché è veramente fatta bene. Quindi feedback aspettatevene e non rimaneteci male se qualcuno vi dà anche un feedback negativo, perché ha speso del tempo per darvi magari un consiglio o una mano, sebbene magari sia negativo, perché vi fa crescere. e come vi ho detto prima, la gestione del proprio tempo, anche questa, è una di quelle parti che mi piacerebbe farvi capire meglio cosa significa per me. Perché se la comunicazione è importante, è importante anche la gestione del proprio tempo. Quindi, come avevamo detto prima, definire una routine quotidiana, che non vuol dire avere dei standard fissi, 9, 13, 14, 18. Vuol dire che al mattino ci svegliamo, quando ci svegliamo iniziamo a pianificare la nostra quotidianità di quello che dobbiamo fare oggi e poi pian piano fare tutte le nostre call, task. E le call, come ho scritto nel secondo punto, schedularle in momenti precisi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando dovete sentire qualcuno, magari mettetegli un calendar e dite, ti va bene questo orario? E poi gli fate un calendar per dire, ho fissato, mi son preso un impegno che in quel momento ci sentiamo. Quindi ho bloccato quel tempo lì. Schedularle call vuol dire anche cercare di raggrupparle in un unico momento, perché è inutile che voi fate una call dalle 9 alle 10, fate del codice un'ora, poi un'altra call, fate codice un'ora. Perché in questo momento, in quel modo lì, voi quando fate quel codice non riuscite ad entrare nel problema vero e proprio. Quindi magari accorpate tutte le colle al mattino e vi tenete il pomeriggio per fare del codice. Abbiamo parlato di calendario, perché secondo me è importante anche condividerlo. Non c'è nulla, secondo me, a tenere nascosto e dire, guarda, dalle 9 alle 11 sono dal dentista. Tutti sanno che in quel momento tu non sei disponibile, perché sei da dentista. Se mettete magari che avete una call, uno non vi disturba o comunque non vi mette un'altra call in quell'orario lì. Ecco perché secondo me è importante, prima di schedulare degli eventi, vedere un pochino il calendario dei vostri colleghi o clienti, se potete, e in quel momento metterlo nel momento migliore. Anche qui cercate di essere con quel buon senso di schedularli in momenti giusti. È inutile che mettiamo a ora di pranzo, che di solito il 90% delle persone a quell'orario lì mangia, o alla sera. Questo è anche buon senso perché capita. E anche qui penso sia molto importante segnalare quando si lavora. Io metto i miei impegni personali, perché io magari in quel momento non ci sono. Quindi segnalarli, che sia su calendar, che sia su Slack. Noi ad esempio abbiamo un canale dove scriviamo che magari domani io entro ai 10. Quindi il mio team sa che io domattina entro un po' più tardi rispetto all'area solito. Oppure inizio prima. Questo fa sì che se qualcuno ha bisogno sa che sono già disponibile. La tecnica del pomodoro è una di quelle tecniche che ci aiuta poi a gestire il tempo. Io personalmente l'ho usata e per chi di voi non la conoscesse vi invito a documentarvi, che è molto semplice. Si tratta di una tecnica che ha inventato un italiano, che praticamente consiste in fare 25 minuti di lavoro su un singolo task con quel focus lì. 5 minuti di pausa, 25 minuti di lavoro, 5 minuti di pausa e così via. E ogni 2, 3, 4, quando diciamo anche voi ve lo sentite, fare magari un quarto d'ora di pausa. Pausa significa secondo me sia adattarsi, fare magari una passeggiata, uscire, prendere aria, ma anche leggere mail, perché in quel momento magari avete quel momento per leggere le mail. O mettere un pomodoro solamente di lettura mail. Ci sono magari persone che, ne ricevono veramente tanti, hanno bisogno di più tempo. Ho parlato di uscire fuori, all'aperto, perché anche qui penso sia importante nel proprio tempo schedulare l'esercizio fisico. Come abbiamo detto prima, facciamo tante ore a sedere, è importante alzarsi, sgranchirsi, ma magari anche affiancare un'attività sportiva. Fa bene alla schiena, fa bene a qualsiasi cosa, fa bene anche alla mente, perché vi fa bruciare e rigenerare delle cellule. E in questo modo riusciamo ad essere un po' più freschi. Qui lo smart working ci aiuta, perché io non ho mai fatto palestra, ad esempio, da dieci anni a questa parte, ora con lo smart working riesco a farlo, perché riesco a schedularmi il tempo per andarci. Prima partivo alle 7 di mattina per andare in ufficio, tornavo a casa alle 7 e mezza, 8 di sera, non riuscivo ad andarci. Ora posso andarci in pausa pranzo, al mattino, o alla fine, alla sera, alle 5, alle 6, quando finisco. Sono molto più libero in questo. Ora passiamo al punto di cosa vuol dire ragionare per obiettivi. Secondo me ragionare per obiettivi è una cosa importante, saperla fare, saperla condividere col team e col cliente e definire degli step ben precisi. Step ben precisi, come abbiamo visto in tante situazioni, è più semplice se li dividiamo in piccoli step, perché sono più stimabili. È inutile stimare una cosa immensa, 3 mesi, 6 mesi, è veramente difficile. In questo caso dividiamo in piccoli step, come facciamo per le storie, per le epiche, le dividiamo, e cerchiamo di affrontarli nel miglior modo possibile in ordine di priorità. Quindi se abbiamo un problema, un obiettivo da raggiungere, cerchiamo di dividere in tanti piccoli step e cerchiamo di dargli il giusto tempo e magari la giusta collecazione temporale, se riusciamo. Il ragionare per obiettivi, a mio avviso, in mia esperienza, è molto più semplice quando partiamo dai task più difficili, più complicati, perché se partite al mattino subito col task più difficile, dovete scrivere del codice veramente complicato, se avete un problema potete scrivere magari al supporto, potete scrivere a un altro collega o al cliente, se riuscite. In questo modo avete le informazioni prima per risolvere il problema. Se procrastinate il task più complicato alla fine, cosa succede? Che le informazioni le ricevete dopo e quindi l'obiettivo si va a allungare con la deadline e con tutto quello che ne consegue, che è ansia e stress. Affrontate i problemi più grossi all'inizio. Anche al mattino di solito abbiamo molta più energia. Per quanto uno dica, ah, mi sono appena svegliato, è vero. Cioè abbiamo più energia al mattino, facciamo i task più complicati al mattino. Anche le call più complicate magari, quelle cose più difficili teniamocene per il mattino. Il pomeriggio è magari per le cose un po' più, non dico semplici perché non è sempre detto che sia tutto semplice, ma per quelle un po' meno complicate. Un altro aspetto importante è la definition of done, perché anche qui è questione di allineamento con l'obiettivo. Cioè se il vostro cliente vi dice io, o l'azienda vi dice abbiamo questo obiettivo e voi lo fate, poi arrivate a consegnarlo, ma io non intendevo questo, intendevo quest'altra cosa, pensavo che ci fosse anche questa parte. Quindi la definition of done ci aiuta a capire quando una cosa è veramente raggiunta, quando un obiettivo è fatto, un task è stato fatto. Nei minimi dettagli per dire è stato fatto, secondo tutti i criteri che ci siamo detti insieme, perché sennò c'è sempre quel misunderstanding di ah ma io pensavo, ah ma anch'io pensavo questo. Quindi alla fine stress, ansia e obiettivo non raggiunto, perché alla fine in smart working, da remoto logicamente, parlano i risultati. Non ci sono altre metriche secondo me, parlano i risultati. Perché quando lavorate in smart working, se raggiungete gli obiettivi bene, se non li raggiungete, diciamo che bisogna spesso farsi le domande retrospettive e capire cosa non è andato, ma parlano i risultati. Ecco perché dico, sfatiamo il mito che quando lavoriamo da casa, dove vogliamo, non si lavora. Perché non è così, perché parlano i risultati. E non raggiungete l'obiettivo 1, non raggiungete il 2, non raggiungete il 3. Diciamo che la gente un po' se ne accorge, dice ma c'è un problema, c'è qualcosa che non va, possiamo aiutarti. Perché parlano i risultati, non smetterò mai di dirlo questo. Quindi qual è il mio day by day quotidiano? Di solito quando mi alzo e inizio a lavorare io controllo l'agenda e cerco di capire, l'agenda è calendario, cerco di capire le varie call, cerco di capire cosa c'è da fare oggi e inizio già a ipotizzarmi alcuni scenari. Subito dopo schedulo i task critici o eventi con i colleghi che ho bisogno di un collega, glielo dico subito, appena possibile, guarda, potrei avere bisogno di vita, mi dai una mano qui, potrei avere qualche problema, ci sei? Oppure prepararmi a una riunione, questa è una cosa importantissima. Quando dovete fare una riunione, una call, che sia con un cliente, che sia con un team, che sia con qualsiasi persona e dovete preparare del materiale o dovete leggere qualcosa, fatevi trovare pronti. Se avete delle mail da leggere, se avete delle cose da condividere, dei documenti, condivideteli. Cercate di essere sempre pronti quando fate la riunione o la call. Fate pausa ogni due ore, pausa ogni due ore non intendo staccare gli occhi e leggere le mail, intendo proprio alzarvi e muovervi, proprio prendere aria, spostarvi, perché spesso anche questo. Io ho l'abitudine, quando ho un problema e non riesco a risolverlo, ad esempio prendo, faccio pausa un po' più lunga, mi faccio un giro, mi faccio una passeggiata anche piccola per riuscire un attimo a pulire la cache del mio cervello e in quel modo riuscire a risolvere il problema, vedevo da un altro punto di vista. Un'altra tecnica che uso è cambiare la stanza. Sembra una banalità, ma anche solamente cambiare la stanza ti aiuta a cambiare il punto di vista. Questa è una cosa che non pensavo all'inizio, l'ho provata e alla fine funziona. Non posso sempre farlo, perché spesso magari non riesci, però quando posso e ho un problema, cambio stanza. Sto ad esempio in salotto o in cucina, anche una standing desk può aiutare quando sono in co-working e in quel modo lì ho una percezione diversa che mi può aiutare a risolvere il problema. Poi faccio esercizio fisico, almeno due o tre volte a settimana, perché mi aiuta a stare meglio, mi aiuta con la schiena, perché comunque in questi anni sono stato molto sedentario. Alla fine della giornata cerco di capire le cose fatte e non fatte e magari mi segno le cose non fatte da fare il giorno dopo, perché non mi piace lasciare le cose a metà o aver detto qualcosa che poi non ho fatto. Diciamo che si tratta di responsabilità dello smart working, perché alla fine abbiamo detto che facciamo una cosa anche a noi stessi, cerchiamo di rispettarla per essere in linea con quello che pensiamo, che abbiamo detto a tutti o anche a noi stessi. Mi piace dire che non è per tutti lo smart working, che non vuol dire che sia giusto o sbagliato, anche qui non è che vi ho voluto condividere verità o che sia così, punto. Questa è una mia esperienza in flowing, che secondo me funziona molto bene, però non è per tutti. Magari uno si trova veramente bene in ufficio, da casa o da remoto non si trova bene, ci sta, non è colpa di nessuno, anzi è giusto che ognuno abbia le proprie preferenze, che è importante che tutti lavoriamo nel miglior modo possibile per avere performance migliori, per poi stare bene anche mentalmente, per avere meno ansia e stress. A me personalmente ha migliorato la vita, perché a me sinceramente ha cambiato veramente tanto, è cambiata veramente la vita, sto molto meglio, riesco a avere il tempo libero per fare cose che non facevo da una vita, o anche stare con la mia famiglia più tempo, perché riesco a organizzarmi la vita privata e non è il contrario, cioè non è che organizzo la mia vita lavorativa e poi dopo la mia vita privata viene dopo, no, prima la mia vita privata e poi la vita lavorativa, quindi riesco a organizzare il mio lavoro in base ai miei impegni privati. Se devo portare la figlia o il gatto da qualche parte, che ne so, oppure ho un impegno, magari devo andare in ospedale a fare delle analisi, non mi prendo permessi o feri o devo compilare moduli, no, semplicemente cerco di organizzare il mio lavoro, magari sposto il lavoro magari il sabato o la domenica, cosa che non faccio di solito, ma se serve, perché magari ne ho bisogno e lo faccio. Non sono vincolato da orari o luoghi. Concludo dicendo che assumiamo, perché questa è una cosa dovuta e quindi in flowing crediamo nello smart working, quindi se qualcuno vuole provare benvenga, mandate il curriculum. E con questa ho finito e vi ringrazio. Spero di aver condiviso con voi un'esperienza che sia utile a molti. Grazie mille Alessandro, molto molto interessante e direi che ci spostiamo su Slido per le domande. Sì, ti lascio lo schermo.